Sicuramente queste partite sono molto importanti per trovare la condizione, ci stiamo allenando bene, ci stiamo allenando molto forte, adesso rientreranno anche gli altri nostri compagni e ci teniamo a partire bene, a far bene, quindi siamo concentrati su questo ritiro. Sei tornato in questo ritiro, io ti ho visto cresciuto anche molto fisicamente, chiedo quanto hai lavorato, se ti sei preparato anche in questa direzione? Ma sì, diciamo che ho lavorato tutta l'estate, anche sul mio fisico, visto che non sono così grosso, ho lavorato molto e mi sento pronto, sto bene, quindi sono felice di dare il mio supporto alla squadra. I mesi dell'anno scorso sono stati di puro ambientamento, eppure hai dato tanto, cosa hai imparato, qual è la percezione anche del mondo Roma che hai avuto e che hai acquisito? Sicuramente sono capitato in una squadra diversa, in una grande squadra, che non è facile ambientarsi subito, però penso di aver fatto bene le mie prestazioni, spero di far sempre meglio, l'obiettivo è sempre quello della squadra, di cercare di aiutare il più possibile la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati. A livello personale, che obiettivi ti sei prefissato per questa stagione, che tipo di crescita? Spero di giocare il più possibile, come ti ho detto, spero di riuscire a lasciare il segno che ancora non ci sono riuscito, però come ti ho detto, gli obiettivi più importanti sono quelli della squadra, ci inteniamo a fare un grande campionato e ci speriamo tanto.